e viva Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juve sono contentissimo per il calcio italiano finalmente torniamo ad alti livelli finalmente la Serie A diventa di nuovo eseguita gli stati si riempiono come se ogni Roma Juve non si fossero mai riempiti sono molto contento una bellissima notizia per tutti noi non solo per la Juve da vedere tutti no? anzi qua sotto comunque sto rosicando come un eunuco invitato ad un'orgia sapete chi sono gli eunuchi? sono quelli che venivano evirati senza palle senza uccello ecco diciamola così invitato ad un'orgia sto rosicando a quei livelli madonna santa premetto prima di tutto che giustifico io lo dico già da adesso lo dico già da adesso giustifico tutti quelli che mostreranno goduria qua sotto nei commenti o in generale nel mondo del web perché io al posto degli juventini starei godendo ancor di più quindi qualsiasi commento godo godo lo accetto certo se mi venite a scrivere il figlio di puttana ti sta bene coglione quello no però se mi mettete messaggi di goduria io le accetto tranquillamente perché per l'importanza clamorosa di questo affare e per le qualità di questo giocatore il minimo che potete fare è godere in questo momento assolutamente voglio partire proprio da questo principio perché mi sembra giusto sottolinearlo il giocatore più forte del mondo arriva ufficialmente in italia a 33 anni anche se nel suo caso possiamo dire a 26 anni biologici perché quelli dimostra effettivamente un giocatore da una media di più di un gol a partita credo che abbia fatto 450 gol in 430 presenze con real gol più presenza meno arriva in italia per una cifra vicino ai 105 milioni col giocatore che prenderà come già detto in scorsi giorni 30 milioni all'anno per 4 anni chi mi viene a dire che questo è uno spreco di soldi è valesemente un coglione perché pensare che si sprecano soldi per prendere un giocatore come ronaldo mediaticamente uno dei giocatori più importanti del mondo anzi il giocatore lo ripeto il giocatore più importante del mondo vuol dire non capirci nulla perché per me con ronaldo già con le quotazioni in borsa già con le magliette già con tutto ci rifanno i soldi in qualche mesetto in qualche mesetto state tranquilli prevetto finita subito che io come ho detto nel video principale dedicato a Ronaldo non mi sarei mai aspettato che questa affare si potesse concretizzare in così poco tempo però secondo me visto che appunto si è concluso neanche il 10 luglio vuol dire che ci lavoravano già da diverso tempo secondo me già quando hanno visto la reazione di Ronaldo agli applausi dello stadium già in quel momento Marotta e i dirigenti hanno pensato ma non è che possiamo provarci sotto sotto poi ci si è giunta la collaborazione con lo stesso agente per portare Cancelo alla Juve ci sono aggiunti diversi fattori che non vi sto qui ad elencare e Ronaldo secondo me anche giustamente ha voluto provare una nuova sfida come ho detto anche in un video precedente per me la scelta di Ronaldo è giusta perché dopo essere stati nove anni nel Real Madrid dopo aver vinto tutto e più volte non una sola volta ma più volte ci sta a voler provare una nuova sfida e quale sfida migliore se non andare nella squadra che è diventata negli ultimi anni famosa per aver perso più finali di Champions League una squadra comunque di livello lui è andato in quella squadra appunto come ha detto lui per provare una nuova sfida per dimostrare a tutti che lui è un campione capace di vincere con chiunque anche con una squadra che sotto alcuni punti di vista è presa in giro proprio per questo discorso delle finali perse anche se ovviamente non parliamo di una squadra mediocre cioè quello mettiamolo di principio sono molto 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 sorpreso sono molto sorpreso perché è vero ormai le voci si erano alimentate tanto ed era impossibile che fosse un completo buco nell'acqua però adesso che vedo che effettivamente c'è il comunicato del Real il comunicato della Juve e la lettera di Ronaldo rimango stupefatto rimango veramente stupefatto perché non me lo... cioè sarò ripetitivo ma non me lo sarei mai aspettato cioè già solo vedere Ronaldo anche se esteticamente cambia poco però vedere Ronaldo con la maglia bianconera che giocherà nello stadio del Frosinone del Parma dell'Empoli cioè veramente mi fa molto molto strano per carità anche in Spagna c'erano squadre mediocri e anche lui è andato a giocare di lì per carità però in Italia adesso lo vedremo sulla pelle nostra lo vedremo vedremo Ronaldo che giocherà col Frosinone contro di noi l'abbiamo visto quando ha giocato con Real quindi fondamentalmente non c'è tutto questo cambiamento però veramente mi fa ridere una cosa del genere non posso fare altro che fare i complimenti alla dirigenza pur rosicando come un porco e lo ripeto un'altra volta perché riuscire a portare un giocatore come Cristiano Ronaldo alla Juve vuol dire saper far bene il proprio lavoro vuol dire avere una base solidissima dietro le spalle e vuol dire che hanno la consapevolezza di poterli rifare tutti questi soldi spesi mica sono scemi che spendono 300 milioni tra stipendio da soldi da Real Madrid per nulla loro sanno bene che questi soldi ritorneranno con gli interessi se non lo avrebbero mai fatto e questo può derivare da una serie di fattori quale dirigenza vicina alla squadra dirigenza seria dirigenza forte una squadra forte e tanti altri fattori che adesso non vi sto qui ad elencare qualcuno mi potrà venire a dire ma tu pensavi di avere speranze anche se non veniva Ronaldo tu pensavi veramente di vincere lo scudetto no cioè so bene che anche senza Ronaldo ci sarebbe stato un distacco molto elevato però vi faccio un attimo un esempio voi siete costretti a subire tre inculate da tre neri o cinque inculate da cinque neri ditemi quale scegliete è ovvio che sono due cose negative allo stesso tempo ed è ovvio ancora di più che uno preferisce sempre la scelta meno complicata e adesso la scelta è diventata molto più complicata adesso se avevamo uno 0,1% di poter lottare lo scudetto adesso è diventato meno 1% poi per carità nel calcio nulla è impossibile e io lo ripeto ancora di più ti ferò sempre comunque la mia Roma perché anche se siamo lontani anni luce sotto tutti i punti di vista dalla Juve dobbiamo provarci in ogni modo perché tanto se non ci proviamo a inizio del campionato cioè quando ci proviamo è vero la Juve ha preso i giocatori più forti del mondo e si conferma ancora una volta come la potenza più importante di tutto il campionato che sta diventando pian piano un campionato alla Ligan alla Bayern alla Bundesliga eccetera eccetera con una squadra che domina sempre a venire quindi io veramente non so che altro fondamentalmente che altro aggiungere sono rimasto senza parole ma veramente questo ma non è per la dirigenza o per il giocatore perché come ho detto sono scelte che hanno fatto bene a fare anche lui stesso ha fatto bene a fare però mi lasciano senza parole io farò la miniatura così così come per di mamma veramente ancora mi domando come se non riuscite a farlo veramente ma adesso però capitelo eh adesso sono molti juventini hanno messo le mani avanti e hanno detto eh adesso però non è che obbligatorio che vinciamo la Champions con Ronaldo perché ovviamente gli altri tifosi hanno detto eh però se non vincite la Champions vi demoliamo sotto ogni punto di vista ragazzi tifosi juventini allora io senza io sono il primo che non gode così particolarmente delle sconfitte della Juve perché ho sempre visto come un godere più delle sconfitte altrui che delle vittorie nostre e l'ho vista più come un discorso da bambini un discorso mediocre però mettetelo in conto ragazzi che dopo aver preso Ronaldo è normale che se non vincete la Champions che ormai è diventato il vostro punto fisso vi prenderanno per il culo accettatelo come se la Roma prendesse un giocatore fortissimo e non vincesse lo scudetto è normale che verremmo presi per il culo cioè come quando la Roma ha preso Batistuta se non avessimo vinto lo scudetto in quel momento perché in quel momento eravamo effettivamente la squadra più forte del campionato avremmo subito presi per il culo sicuramente sì come le potreste prendere voi se non vincete la Champions non è matematico perché per quanto il giocatore più forte del mondo non è matematico che ti porta trofei di principio però dovete anche accettare il fatto che se non dovesse succedere le prese per il culo e le prendete come le avreste fatte voi a un eventuale Inter a un eventuale Roma se loro avessero preso il giocatore come Ronaldo e non avessero vinto niente semplicemente questo questa era un'ultima conclusione che volevo fare su questo video non mi sento di aggiungere altro perché le cifre ve le ho dette la mia opinione ve l'ho detta quello che dovevo dire l'ho detto avevo fatto comunque qualche video in precedenza anche se qualcuno l'ha cancellato mi pare che un video troll e un video di scuse li ho tolti quindi non c'è neanche tutto questo gran casino di video su Ronaldo però mi sembra giusto farne uno perché adesso la fare è praticamente ufficiale non sono voci non sono discorsi non sono è ufficiale l'ha detto lui l'ha detto Real l'ha detto io io rimango quasi senza parole fatemi sapere invece voi cosa ne pensate lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e ovviamente non offendete se avete un'opinione diversa dalla mia per favore cioè ve l'ho detto io accetto le godure le accetto tranquillamente ma appunto pensate a godere i miei affari vostri invece di venire in mea di godo merda coglione pensateci perché se voi avete la forza dopo un affare di questo genere di andare più a insultare gli altri che godere per gli affari vostri vuol dire che tanto esperti e tanto maturi non siete io mi rivolgo solo a questo tipo di persone non agli giuventini spero che i più intelligenti abbiano capito ci vediamo presto per un altro video che dovrà essere anzi sarà sicuramente la recensione sulla semifinale di Francia-Belgio un saluto e sempre comunque forza Roma ciao ragazzi